Salve ragazzi, sono Mario Rubino e mi occupo di nutrizione. In questo video vi farò conoscere meglio le funzioni basilari di FatSecret, l'applicazione per il conteggio di macronutrienti e calorie della vostra dieta. Dopo aver scaricato FatSecret, inserito i vostri dati e tutte le vostre caratteristiche e obiettivi, andiamo ad aprirlo. Vi troverete subito il vostro diario alimentare e quindi da qui potete inserire gli alimenti che mangiate a colazione, pranzo, cena o snack. La prima cosa importante da fare è avere questa rica che vedete con grassi, carboidrati e proteine e calorie. Se non l'avete, cliccateci sopra e cercare l'indicazione, visualizzazione e dettagli. Quando inseriamo un cibo, possiamo scegliere se aggiungere gli alimenti e quindi ricercare qua ogni alimento. Oppure, se non troviamo un alimento, possiamo anche aggiungerlo noi, con aggiungi nuovo alimento. Possiamo inserire ovviamente la marca, il prodotto, le porzioni, anche la foto e la categoria. Una volta aggiunto l'alimento, noi lo salveremo e lo troveremo sempre nella lista degli alimenti di Fat Secret. Se scorriamo in alto, abbiamo i recentemente mangiati, cioè gli alimenti che noi mangiamo di più nel pasto che abbiamo selezionato, oppure gli alimenti più mangiati durante la giornata. Poi possiamo anche crearci un pasto, ad esempio una colazione che noi facciamo di solito ogni giorno, gli mettiamo tutto quello che mangiamo e lo salviamo, così da avere molto più veloce il pasto da inserire con tutti gli alimenti in un secondo. Aggiungendo degli alimenti, avremo, per ogni stazione sempre a colazione, le proteine, i carboidrati e i grassi. E ogni volta si andranno ad aggiungere nel totale che vedete in alto. Se scendiamo su diario alimentare, una funzione importante è quella esporta. Potete esportare tutto un periodo o tutto un mese con il riepilogo dettagliato in pdf e mandarlo per e-mail. Avrete tutto il riepilogo con tutti gli alimenti che avete aggiunto in quel periodo e i macronutrienti. Un'altra funzione molto interessante è quella del report, dove in alto a destra potete vedere che c'è un target. Se noi apriamo sul target, vedremo che possiamo aggiungere le calorie di riferimento e anche l'obiettivo dei macronutrienti. Utilizzatelo in grammi e quindi avremo qui la possibilità di mettere la quantità di grammi di carboidrati, grassi e proteine che dobbiamo raggiungere. Inoltre possiamo impostare anche degli obiettivi giornalieri e in questa schermata se facciamo delle strategie particolari, come ad esempio una ciclizzazione dei carboidrati, possiamo anche cambiare la quantità dei macronutrienti suddividendola nei vari giorni. Bene figliozzi, il video termina qui. È stata una guida molto veloce e molto pratica, giusto per farvi entrare nel mondo di Fat Secret per capire velocemente come utilizzare questo strumento al meglio per voi. Dovete utilizzarlo appunto come uno strumento e non farli strumentalizzare da esso, quindi non dovete dipendere da lui. Questo è solamente un modo per valutare quello che state mangiando e quello a cui invece dovreste raggiungere per i vostri scopi che siano sia estetici che salutari che prestazionali. Iscrivetevi al canale e in descrizione vi lascio tutti i miei contatti. Un abbraccio e pura vita!